Eccoci, allora buongiorno a tutti, buongiorno al professor Giacomo Stella che è il nostro ospite oggi delle nostre interviste con gli esperti per il canale Fai the Virus. Oggi è l'11 marzo del 2022, questo canale ricordo a tutti che è stato aperto in una fase emergenziale, perché era durante l'emergenza del Covid-19, ma in realtà oggi stiamo vivendo di nuovo un'emergenza più di tipo politico, per cui ci fa piacere continuare a tenerlo aperto e avere questa possibilità di avere una finestra di dialogo dei genitori, quindi quelli che rappresento io per la fondazione Fai the Stroke e dall'altro lato, in questo caso il professor Giacomo Stella. Allora, prima di iniziare io farei il consueto patto d'aula, ci mettiamo d'accordo che nell'arco di questa oretta di conversazione ci diamo del tu, va bene Giacomo? Certo, certo. E poi siamo entrambi consapevoli dei nostri ruoli, per cui nessuno in cattedra, nessuno da voti o giudizi, perché comunque il contesto mi hanno anche decattedrato, come peraltro hanno fatto col mio amico Adriano, perché siamo, oltretutto eravamo anche colleghi del stesso Ateneo, abbiamo avuto uno strano percorso parallelo, come ti ho detto quando ci siamo parlati al telefono, uno strano, curioso tutto qua, abbiamo lavorato all'inizio, uno da un lato e l'altro dall'altro lato del Secchia, fiume Secchia, lui lavorava a Scandiano e io lavoravo a Sassuolo, quando c'erano addirittura in Emilia Romagna ancora i consorzi sociosanitari, prima delle ASL, quindi stiamo parlando della seconda metà degli anni 70. Bellissimo. Quello io ho questo accento Emilia. Per me, ecco, la vostra categoria per me è un privilegio, una categoria di esperti che riguadagnano un tempo a disposizione anche per queste chiacchierate che altrimenti in una fase lavorativa attiva sarebbe stato più improbabile, un colloquio d'ambulatorio. Più difficile, ma ne abbiamo fatti tanti, sia Adriano che io e quindi. Vero, vero. Allora Giacomo, ci racconti qualcosa su di te, il ruolo, il tuo carico, sei un neuropsicologo? Io sono esattamente uno psicologo, da tanti anni dico uno psicologo anomalo, perché io non mi sono mai occupato di psicologia delle emozioni, di psicopatologia, ma fin da anni lontanissimi, come ho appena detto, io ho cominciato nel 74, alla fine del 74, quindi diciamo nel 75 il mio lavoro, io ero orientato verso quella che allora si chiamava la psicologia cognitiva. Non ho mai esercitato attività di psicoterapia o di consulenze, di supporto psicologico. Ho sempre fatto questo lavoro perché ero interessato al funzionamento mentale, cognitivo, alle funzioni. E quindi dopo, anzi o immodestamente, ma insomma contribuito alla nascita della neuropsicologia dello sviluppo, perché all'inizio era una disciplina solo dedicata all'adulto, anche perché io mi ricordo le discussioni con i colleghi neuropsicologi dell'adulto, loro dicevano, ma la situazione dello sviluppo è una situazione troppo cangiante, troppo in movimento, in un momento… Per fortuna direi, è un gran vantaggio competitivo. Esatto, assolutamente. Però per chi noi nella neuropsicologia siamo abituati a misurare, cioè non a fare così ipotesi vaghe, ma a misurare. Quindi con tante variabili che cambiano è sicuramente più complesso. Anche a costruire dei modelli, per esempio come funziona il linguaggio. E allora il linguaggio scopri costruendo dei modelli che è una costellazione di sottosistemi e quindi devi analizzare un sottosistema, quello fonologico oppure il lessicale, oppure eccetera. E allora per misurare queste cose si adattavano e si adattano anche oggi delle prove che cercano di evitare l'interferenza di alcune altre funzioni. Allora i neurologi e neuropsicologi adulti dicevano, no, ma se tu prendi un bambino e gli fai una prova di memoria, sei mesi dopo è tutta diversa. E quindi su cosa lavoriamo? Sono sabbie mobili. E noi dicevamo, certo, ma questa è la caratteristica dello sviluppo. E quindi la neuropsicologia dello sviluppo certamente prende dei modelli dalla psicologia cognitiva, dalle neuroscienze eccetera, ma ha questa caratterizzazione di studiare le traiettorie. Ma quindi Giacomo cosa succedeva? Un bambino nato negli anni 60, 65, quindi che faceva le elementari in quel periodo lì, cosa succedeva dal punto di vista della diagnosi? Parlava già di disturbi apprendimento? Allora, quando io ho cominciato la mia attività, appunto sull'altro lato del secchia, nel Consorzio Sociosanitario di Sassuolo, che comprendeva buona parte della provincia, della parte sud della provincia di Modena. Faccio fatica a dire parte sud, perché lì ci sono gli appennini e per me, che sono Veneto, le montagne stanno a nord, non a sud. E poi devo dire che l'appennino non lo consideravo e tuttora non lo considero montagna, ma collina più o meno, insomma, ma queste sono piccole sfumature personali. Comunque lì cosa facevamo all'epoca? C'era l'inserimento scolastico, l'inserimento scolastico dei portatori di handicap cosiddetti, perché? Perché prima stavano negli istituti, io mi ricordo. Questo però quando c'era già una diagnosi, c'era qualcosa di riconosciuto, quando invece c'era il bambino solo con disturbi di apprendimento, un bambino che in seconda, terza... Un bambino con disturbo di apprendimento veniva classificato all'epoca come un caratteriale, proprio usando questo termine qui, i caratteropatici o caratteriali. E quindi venivano messi nelle scuole speciali, perché... Ma perché? Perché se tu in classe, anche oggi, non crediamo che sia... Sì, la situazione è cambiata, adesso non voglio esagerare, però guarda, tutti i giorni io combatto e sento e ascolto le difficoltà delle famiglie che vedono i loro figli che vengono così... Classificati o... No, ma martirizzati proprio dagli insegnanti, perché vedi, il principio delle scuole speciali è stato questo, tu non rispondi al criterio standard del processo di apprendimento, non hai una patologia evidente, vabbè, non importa, hai dei problemi, non ne hai voglia e quindi c'erano delle reazioni caratteriali, delle reazioni... E allora questi bambini venivano messi nelle scuole speciali. Chissà quanti, quanta parte di questa generazione ci siamo poi perse, l'abbiamo esclusa forse dal contesto sociale di vita per questo, per averli poi... Certo, certo. Però questo è stato almeno foriero di un meccanismo associativo, di un cambiamento sistemico che è quello che avete portato anche con la fondazione dell'Associazione Italiana della Dislessia, no? E quindi da lì è nata poi la consapevolezza di dire no, non abbiamo... Allora, ci sono voluti parecchi anni perché io ho fondato l'Associazione Italiana di Dislessia nel 1997. E si sapeva in quel periodo... Pensa dal 74 al 97 quanti anni sono passati, fai i tuoi calcoli, più di 20, no? E lì è stato un periodo di... sempre partendo dall'attività clinica, cioè dalla constatazione di come funzionano i bambini. Ma sai quante volte c'erano bambini che andavano male a scuola che ricevevano o diagnosi di ritardo mentale di grado lieve o ricevevano anche diagnosi di disturbo del comportamento o si ricercavano, perché questa era allora la psicologia, tutte le dinamiche familiari attribuendo a quelli... di... Quante mamme abbiamo criminalizzato? Colpevolizzato, colpevolizzato, per non dire criminalizzato proprio, no? E si fa anche oggi, perché non più tardi del di ieri, mi sembra che il giorno era, sì, giovedì, perché io ieri ero a Modena appunto, l'altro ieri ero a Bologna, mi muovo sempre. Allora, c'era una madre di una ragazza, anzi di un ragazzo, scusa, perché la ragazza aveva già una diagnosi precedente. Questo ragazzo ha 17 anni e fa un istituto tecnico industriale a Modena, informatica, e non è stato sottoposto a varie diagnosi, però a varie valutazioni, scusa. E l'unica diagnosi che hanno fatto è disgrafia, che è una diagnosi, insomma. Perché hanno detto no, ma lui forse non ha una buona competenza linguistica, perché il papà è inglese, ha un cognome inglese, e quindi ancora oggi ci sono. E la mamma diceva, ma io insistevo con gli insegnanti alle medie, dicendo, ma io studio con lui. Lui ha tante difficoltà, ditemi che difficoltà ci sono. Allora, in questi anni devo dirti che le neuroscienze ci hanno aiutato a capire. Però se tu volevi la storia, io ti dico, io per anni sono stato accusato di medicalizzare dei problemi. Dove magari invece la volontà era proprio altra. Era proprio quella... Ma la volontà era quella di capire. A me non interessa medicalizzare o no. Se vedo dei bambini, se vedo dei bambini, e sto parlandoti degli anni 80, che non hanno problemi uditivi, non hanno problemi visivi, però stentano e hanno moltissime difficoltà. E i loro genitori ti dicono, no, ma sai, ero anch'io così. Cioè questo ti deve far pensare che magari c'è una base di partenza costituzionale che è... Genetica. Ma quando io dicevo queste cose, addio. Anche i miei amici e colleghi padovani, eh. Attenzione, quindi... Dove appunto c'è una grande scuola di psicologia anche lì, no? Quindi... Assolutamente. La più... Intanto la più antica d'Italia. Anche perché io mi sono laureato in psicologia lì, provenendo da un'altra laurea, perché non c'era ancora psicologia quando io mi sono iscritto all'università nel 1968, per l'appunto. Che periodo, quindi? Però ti dicevo, io riconosco, e lo dico sempre ai miei giovani colleghi, nei periodi di formazione, insomma, ma soprattutto non tanto nel corso della laurea, ma soprattutto dopo nei corsi di specializzazione. Io ho avuto la fortuna di dovermi occupare tantissimo di bambini con problematiche lesionali. Che sono quelli che interessano proprio a noi, che sono l'oggetto della conversazione di oggi. E certo, io ho lavorato tantissimo con i cosiddetti bambini spastici. Anzi, ti darò una chicca di tipo autobiografico personale. Nel lontano 1971, quindi quando ero ancora... Stata in cui io nascevo. Bene. E io, a Vicenza, con un gruppo di genitori, creavo un'associazione per l'assistenza agli spastici. Perché? Perché avevo un mio amico che faceva l'orafo, lo fa ancora forse, non lo so, sarà in pensione, insomma. Che aveva un bambino con una tetraparesis spastica, un classico problema dovuto all'asfessia cerebrale, tutte quelle cose che succedevano... Durante i partiti. ...allora molto frequentemente. E non voglio accusare nessuno, porto la storia. L'Associazione Italiana Assistenza Spastici, la sede in Vicenza era a Valdagno. perché una famiglia, che non nomino, aveva un bambino spastico e quindi aveva creato, per carità, con grande sforzo, la sezione di Vicenza dell'Associazione Italiana Spastici. e quindi i bambini di Vicenza, che erano più di trenta, dovevano andare a Valdagno, 35 chilometri da Vicenza, e tornare due volte alla settimana per fare la terapia. Fisioterapia. Sì. Sì. Allora i genitori protestavano, però non c'era niente da fare, perché c'era, come dire, una gestione familistica e quindi la famiglia aveva creato. E quindi sai cosa ho fatto? Sai cosa abbiamo fatto? Allora, loro avevano una fisioterapista peruviana, mi ricordo ancora, Graciela Urbieta Leiva. E lei, sentendo questo manipolo di genitori che voleva aprire qualcosa a Vicenza, ha detto no, ma io sono interessata ad abitare a Vicenza, per cui io l'ho ospitata a casa mia per sei mesi, per non gravare di spese il gruppo di genitori, e poi in quell'epoca lì ho conosciuto Milani con paretti. Non so se ti dice niente. Beh, certo. Sì, sì, mi dice qualcosa, ma mi viene anche… Il fratello di Don Milani. Che veniva una volta ogni due mesi a Vicenza per vedere i nostri bambini. Senti, ma questo è uno spaccato di storia, perché mi parli di Aias anni 70, quindi anche scuole speciali chiuse e nuova… Assolutamente. Io prima di occuparmi di altre cose sono partito da lì, ma con un atteggiamento volontaristico da studente così, che vuole migliorare le condizioni delle famiglie e quindi… Un spirito sociale comunque animato da… Esatto, e io ho cominciato così, ho cominciato così proprio. Bellissimo, mi fa davvero piacere trovare questa… Quindi ho conosciuto Milani con paretti. Siamo andati la prima volta per fargli vedere il bambino di questo mio amico, che era l'anima, era spinta non solo lui, poi altri genitori, ma insomma lui era partito per creare una sezione anche a Vicenza, poi su quella è quando io sono venuto via e poi perché sono venuto a lavorare a Modena nel 74, lì si è insediata, ma ci voleva, intendiamoci, la nostra famiglia di Conegliano che ha preso in mano la gestione di questa cosa, la dottoressa Pellegri, cioè sei nomi di storia, storia, storia… Però è utilissimo anche perché rileggendo il libro di Milani con paretti poco tempo fa, ho trovato delle massime che a me sembrano molto contemporanee, anche rispetto alla visione sulla riabilitazione. Però io ti interrompo su questo spaccato storico che per me è di grande interesse, ma volevo tornare sul tema dei bambini con paretti. Ma è finito adesso, dicevo che poi quando io sono arrivato a Modena ho cominciato a occuparmi di bambini sordi, per capirci, non udenti, e di bambini con paragisi cerebrale infantile, e quindi lavoravo con i fisioterapisti prevalentemente, quindi lavoravamo occupandoci di esiti di patologie pregresse. e quindi lì si è costruito il mio modo di concepire e anche poi supportato dagli studi, insomma, che ho continuato perché io ho preso una specializzazione in psicolinguistica all'Università di Ginevra, lavorando naturalmente con un po' di… e quindi ho sempre… mi sono sempre occupato di cognizione, linguaggio e intelligenza, quindi entriamo nel nostro argomento, no? Entriamo appunto di nuovo, mi fa piacere sapere questa cosa perché mi chiedo, nei casi di bambini in cui è accertata già una lesione perinatale o prima o dopo la nascita, quindi si vede già dalla risonanza magnetica che c'è stato un problema a un emisfero, a una parte del cervello o in maniera diffusa su tutti e due gli emisferi. Che cosa si fa in queste condizioni, anche per chi studia, anche per lo scienziato? È una situazione più agevole perché dici non ho un cervello standard ma so già che quelle parti lì lesionate non rispondono allo stimolo, quindi si parla più di dislessia evolutiva o… Dicci tu, raccontaci di questi… Allora, io ti dico come lavoriamo noi, quindi come lavorano i miei collaboratori nei centri in giro per l'Italia. Quando ci sono… Cioè, intanto io voglio sempre… ho uno schema in testa. Io devo capire chi ho davanti. E per capire chi ho davanti vuol dire, prima di tutto, conoscere il suo livello cognitivo, le sue capacità di funzionamento… Tu tieni conto che poi all'epoca i test erano… Diversi da quelli… Il demonio. No, ma erano anche il demonio. La psicologia che stava nascendo in Italia rifiutava i test, voleva solo… E quindi io che facevo un po' di valutazioni basandomi su sistemi invece, su sistematicità, su osservazioni sistematiche, che ero un po' malvisto, fra virgolette, ma insomma quello non importa perché non l'ho mai considerato rilevante. E quindi anche adesso, quindi da tantissimi anni… Io dico sempre, prima di tutto noi dobbiamo capire chi abbiamo davanti. Quindi colloquio prima con il bambino? No, no, nessun colloquio, a me non interessa il colloquio, mi dispiace. Non interessa il colloquio, le valutazioni spregate. Ma nel senso che io, che ho aperto all'ospedale maggiore di Bologna un servizio che è ancora attivo, assolutamente, anzi prestigioso, noi lavoravamo così. Mentre il neuropsichiatra infantile faceva un colloquio anamnestico, noi cominciavamo a vedere il bambino al buio. Punto. Non mi interessa. Anche adesso io funziono così. Cioè io voglio farmi una mia idea del bambino. Naturalmente ho bisogno di sapere se partiamo da un quadro lesionale o se… Il ragazzo che ti dicevo che ho visto ieri, per esempio, no? Lui ha avuto a quattro mesi una miocardite, quindi non cresceva e hanno scoperto che era una miocardite. Allora, voglio dire, io devo sapere e naturalmente tener conto di queste cose. Il quadro clinico. Ma sì e sì, però non voglio… voglio farmi un'idea mia, proprio un'idea mia. E quindi per farmi un'idea mia ho due o tre colonne portanti per capire se l'edificio… Com'è questo edificio? E sono la valutazione cognitiva e la valutazione linguistica. Per esempio, con questo ragazzo qui non era stata fatta la valutazione linguistica. Perché? Perché non è stata fatta, scusa, a 16 anni. E se ha un lessico invece povero, come fa a stare attento a scuola? Che metà delle parole che dicono non le capisce, non ne conosce, crede di conoscere il significato, ma attribuisce un altro significato. Quindi questi due elementi sono elementi fondamentali. Poi io entro, dico sempre ai miei giovani che devono imparare, attenzione, attenzione. La psicometria è una cosa importante perché è uno scheletro dentro cui tu ti metti per osservare la realtà. In questo caso il soggetto che hai davanti, il bambino, insomma, no? Però non basta la psicometria, altrimenti si fa tutto col computer, se vuoi. Si potrebbe? L'intelligenza artificiale. L'osservazione clinica è molto importante. Ti faccio un esempio. Prendiamo il famoso quoziente intellettivo. No, parliamo di questo perché è un tema che ci interessa e ci riguarda da vicino, no? Ci piacerebbe capire con te, te lo dico mentre ci rispondi, quanto i quozienti, le varie scale valutative che ci portano a questo punteggio finale siano operatore dipendente e quanto la misurazione di questo punteggio può essere inficiata da bambini che hanno già dei problemi di processazione, e quindi hanno già una lentezza di risposta che è diversa dallo standard, dal tipico. Quindi io ho in mente queste risposte che vengono date in maniera molto citata e vedo la terapista che segna no non ha raggiunto perché appunto me l'hai detto un po' pezzora. Ho detto che io sono il nemico del quoziente unico, quoziente intellettivo e ogni tanto, non so tu da dove chiami, da Milano? Da Milano, da Milano. Per esempio, soprattutto con alcuni milanesi, ma non solo, con i dirigenti scolastici, anche di recente, un dirigente scolastico si è impuntato e dice io voglio il valore di cui unico. Invece adesso la scala psicometrica è articolata su quattro indicatori, l'intelligenza verbale, che se posso io evito perché non serve a una mazza, e dopo ti spiego perché. L'indice di ragionamento visuo-percettivo, che è invece una prova, non una prova, sono sempre tre le prove che costituiscono questi due indici, quello di comprensione verbale e quello di ragionamento visuo-percettivo. Questo indice non è soggettivo, questo di ragionamento logico, io lo chiamo, questo non è soggettivo perché, mentre quello verbale sì, questo non è soggettivo perché hai dei tempi che puoi attribuire al soggetto per la realizzazione della prova, e ci sono figure molto precise. Allora, adesso io ti faccio anche vedere una figura. Sì, fammi il testo, mi metto nella… No, 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 io nascondo il nome del… Una scala wish, una scala wish, perché poi al genitore risuonano tutti questi… Questa è una scala wish, questa è una scala wish, tipica del disturbo di apprendimento, in cui tu vedi questi due punteggi qui… Alza un po' di più il foglio, così lo vediamo in camera, ok, sì. Questo è l'indice di ragionamento. Sì. E questa è la linea media, quindi questo ragazzino ha 122 di capacità logiche… Su una scala fino a 100? 100 è la media. Mi sembra benissimo. Sì, va molto bene. E questo è l'indice di comprensione verbale, che è 138, elevatissimo. Quella parte che tu vedi sopra sono i punteggi che concorrono a fare il punteggio unico, questo, questo, questo. Poi c'è un quarto indicatore, scusa, un terzo indicatore, che è questo, che è l'indice di memoria di lavoro. Anche qui non c'è soggettività. Niente. Perché la memoria di lavoro o ce l'ho o non ce l'ho, nel senso che… No, no, non intendo questo. Allora mi offri uno dei miei cavalli di battaglia, che è la memoria di lavoro. Vedi, questo è un profilo tipico del disturbo dell'apprendimento. In cui tu mi hai fatto vedere, i primi due punteggi molto performanti, no? Sì, questo è un punteggio tipico del disturbo dell'apprendimento, con le due funzioni di cognizione generale alte e le due basse. Questa discrepanza qui è molto importante perché vuol dire… La memoria di lavoro, adesso ti faccio un test così vediamo cos'è la memoria di lavoro. Vai, vai. L'ultima cosa che abbiamo visto di te recentemente è questo video nei panni di… Questo video in cui fai fare dei test… Questa è una roba che mi ha obbligato a fare l'Associazione Italiana di Rilassi. Però è un tipo che è molto efficace, nel senso, passa proprio il messaggio di… Non lo so, perché io ho un problema con me stesso, quindi non l'ho più rivista. Ti dico che l'abbiamo vista noi e l'abbiamo apprezzata. Non l'ho mai rivista e quindi è addirittura la vicepresidente, l'Antonella Trentin, mia cara amica, mi ha detto dimmi come… No, questo non chiedermelo, mi avete costretto a venire a Napoli. Allora lo diciamo noi ad Antonella che per noi è estremamente efficace quel video lì, per chi non è competente della materia cerca di avvicinarsi e capire quali possono essere difficoltà. Ma loro sono molto bravi, però non sfuggire alla prova di memoria di lavoro. Vai, dimmi la prova di memoria di lavoro così vediamo se trattengono le informazioni. No, ma è molto importante capire una cosa fondamentale, che la memoria a breve termine verbale, attenzione, verbale, ha una sua particolarità, è una funzione importantissima nel funzionamento cognitivo. Perché il linguaggio scompare appena viene prodotto, cara Francesca. Ok? Se io ti dico di ripetere il numero che dico adesso, 56.936, vai. 56.936. E come hai fatto? Perché quando io ho finito di pronunciarlo è scomparso e tu ci hai anche messo due o tre secondi per rispondere. Quindi noi possiamo fare questa operazione perché abbiamo nella corteccia, l'area temporale posteriore sinistra, la registrazione dell'informazione verbale. È una specie, dico io con i ragazzi per farmi capire, di mp3 biologico. O la RAM di un computer, qualcosa in cui storo le informazioni, ma di passaggio. Sì, di passaggio. Perché se adesso ti chiedo di ripetere il numero non te lo ricordi più. Direi un 56.936, ma tu poi mi dici se non te lo ricordi neanche più non abbiamo. Non lo so, io non me lo ricordo. Anche perché non è utile poi trattenere forse. Certo, questa è un'informazione transiente, quindi mi deve restare lì, perché se devo trascriverlo, cara Francesca, deve essere così. E invece io mercoledì ho visto una ragazzina a Bologna che quando io le dico davanti ai genitori per far capire cos'è alla fine di tutta la valutazione, e dico guarda, c'è questo problema qui di memoria. Questa ragazzina qui pensa, ve lo ricordo bene, ha 118 di quoziente logico, va bene? E 64 di memoria di lavoro. Cioè è come se avesse un'intelligenza, ma non le gambe su cui cammina l'intelligenza. Allora, questo è un problema grosso che la scuola sta cominciando a percepire adesso, perché tu, tu insegnante, non sei in grado di capire che lui ha un problema di memoria verbale, tu dici solo che è disattento, punto e basta. Non solo l'insegnante, il genitore è lo stesso. Anche il genitore, sì, anche il genitore. Il genitore aggiunge... Nel tuo libro, che faccio vedere, è un manualetto facile, è quello che sta, la dislessia, quello del mulino, per farsi un'idea, racconti proprio queste storie, sì, assolutamente, però racconti proprio queste storie di genitori e figli e di rapporti che magari nel tempo cominciano a deteriorarsi, proprio perché sorgono questi dubbi. Sì, ma in più il genitore, il genitore, ti aggiungo anche un aggravante, fra virgolette, non è un aggravante volontario, però il genitore dice, quando tu gli dici ha un problema di memoria verbale a breve termine, il genitore ti dice, scusa, non è vero, perché tutto quello che vuole se lo ricorda. È un classico questo. Eh, ho capito, ma c'è un piccolo dettaglio, quella si chiama memoria a lungo termine, quella sta in un'altra parte del cervello che si chiama ipocampo, ma non c'entra niente. Purtroppo sono due, no purtroppo, noi siamo fatti così, adesso dico purtroppo perché il genitore fa questa confusione. No, dice, ma i nomi dei pokemon, ma non c'entra, quella è memoria a lungo termine. Tu puoi mettere tutta la motivazione che vuoi, Francesca, nel ricordarti il numero, eh? Però non c'è niente da fare. Questa è una stringa fonologica in cui la tua capacità dipende dal... Il genitore mi dice, no, ma quello, se io dico 56.234, no? E la ragazzina dell'altro giorno dice tipo, tipo, 56.364. E il papà dice, scusa, stai più attenta, no? Non c'entra niente all'attenzione, capisci? Allora lei si sforza ancora di più. Io le dico un altro numero, dico 34.918, sto sparando a caso, e noi abbiamo delle liste, ma no. E lei dice 34.408. Allora io a questo punto fermo il papà, dico, scusi, non è un problema di attenzione, questo è un problema di memoria a breve termine. Però diciamo una cosa. E il papà mi dice, no, ti finisco per capire. Il papà dice, no, ma è un numero troppo grande, Ah, dico, 34.000 è un numero troppo grande. Bene. Allora, questa ragazza si chiamava Simona, dico, Simona, 50.200. E lei risponde, 50.200. E dico, è più grande, 34.000 o 50.000? Allora dico, vede, non è la grandezza del numero, ma il numero di sillabe da ricordare. Punto. Dimmi su questo. Però non ti ho ancora detto cos'è la memoria di lavoro. Vai, vai, dimmi che cosa è prima. Perché questa è la memoria a breve termine. Allora, adesso invece ti faccio, visto che la tua memoria a breve termine verbale funziona, facciamo una prova di memoria di lavoro. Io ti dico un altro numero, ma tu non devi ripetermelo, devi dirmi qual è la seconda e la quarta cifra di quelle che servirebbero per scriverlo, la seconda e la quarta. Va bene? Vai. Senza scrivere. Allora, va bene, 39.717. 39.717, la seconda cifra è il 9, la quarta cifra è l'1? Va bene. Fatica, ansia, da prestazione. Scusa, no, ma questa si chiama memoria di lavoro. Cioè tu devi manipolare lo stimolo che però deve restare nella memoria a breve termine perché se nel frattempo la Simona scompare o diventa impreciso, basta. Non riesce a riprenderlo. Finito. Io, se tu mi dici devo fare questo lavoro, io mentalmente visualizzo, cioè mi immagino una lavagna in cui io lo apprendo così, sono tutti che lo apprendono così. Ci sono tanti modi per fare questo. Quello che voglio sottolineare è che chi ha una memoria di lavoro a 64, capisci, fa anche fatica a capire una frase complessa perché non si ricorda i puntori, dove portano. Cioè la memoria di lavoro è una struttura importantissima nell'apprendimento scolastico. Dimmi questa cosa, quando io faccio la risonanza magnetica di Simona con questo tipo di memoria di lavoro è la mia. Vedi qualcosa? Niente. No. Neanche la risonanza magnetica funzionale, tu fai vedere, somministri dei test a lei durante l'esame? Niente. Beh, si vede un'ipoattivazione ma non è utile dal punto di vista di individuare il problema e soprattutto costruire una soluzione. Ok, va bene, mi hai risposto. Comunque ad oggi serve ancora questo tipo di testistica? No, ma sì, sì, assolutamente. Ma ci sono cose molto importanti che fanno le risonanze magnetiche funzionali. per esempio ci fanno capire, cioè ti mostrano praticamente cos'è una rappresentazione mentale. Perché se tu vedi una trattografia consolidata di una persona che ti dà una risposta, praticamente quella è la foto della sua rappresentazione. Anche se io ti dico Francesca, hai bevuto un buon caffè stamattina? e tu mi dici non era tanto buono, in quel bar lì non ci vado più. Perché mi dici non era tanto buono? Perché ti sei costruita una rappresentazione mentale sulla base di che cosa? Delle esperienze e dell'accumulo delle esperienze. Guarda, l'apprendimento, questo si chiama apprendimento implicito o incidentale. È una cosa importantissima perché non c'è l'insegnamento. quindi mi stai dicendo che io più espongo bambini che hanno già una situazione di partenza quindi dal punto di vista lesionale, quindi se io li espongo a più esperienze anche di tipo informale, quindi non solo la scuola ma tutto ciò che può essere il confronto con i pari arricchisco il loro ambiente? Certo, e anche sollecito la loro capacità di apprendimento, però a due condizioni, due condizioni. La prima è niente spiegazioni. Le spiegazioni, io dico sempre, anche ai bambini con disturbo di apprendimento provocano fastidio e quindi io lo chiamo rumore cognitivo. per cui il bambino ti dice sì 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 ho capito ma in realtà non ti dice ho capito, ti dice stai zitto perché non ne posso più. Sì. devi proporre le cose nello stesso modo tutti i giorni. Quindi vuol dire routine, vuol dire allenamento intensivo, cioè come se dovessi allenare un corpo. Vuol dire esattamente questo. A me piace tantissimo, mi piace, mi dà molta soddisfazione. A me piace lavorare con i bambini in generale. Con coloro che hanno anche un quadro lesionale si lavora ancora più volentieri perché nessuno sa fare le cose come si deve. E nessuno sa. Guarda, l'altro giorno mi offre... Forse nessuno sa, ti interrompo Giacomo, forse nessuno sa perché nessuno ha mai studiato anche come questo cervello che è stato lesionato alla nascita si è poi riorganizzato, immagino bambini che hanno spostato alcune persone. Non c'è bisogno che gli insegnanti sappiano queste cose qui, Francesca. È un'informazione che è inutile per loro. Allora, cosa si fa? Ti parlo di una gemella di Napoli che ho visto due o tre mesi fa a Roma, nel nostro centro di Roma e l'ho vista la settimana scorsa con gli insegnanti a distanza e con la collega di Roma che era lì. Perché? Perché la domanda questa bambina ha dei problemi notevoli, gemella, epilessia grave, farmacoresistente, hanno dovuto fare un intervento neurochirurgico, non proprio di splitting, ma comunque di ablazione ablazione di una parte per cui c'è anche un esito successivo, no? Allora... Non solo motorio, anche cognitivo? No, motorio è incredibilmente, sì, però cognitivo sì, e anche di visione perché c'è un campo visivo ridotto con un emin attenzione, insomma... E mi è ossia. Problema, sì, un problema un po' più complesso, allora gli insegna e non impara a leggere e a scrivere, non impara, non impara a fare i calcoli, no? Non impara. Allora, cosa bisogna fare con questa ragazzina? Eh, bisogna fare quello che ti ho detto. Cioè, primo, siccome lei non dico che è senza memoria, ma perché senza memoria non si può vivere, però ha una memoria molto, molto, molto debole e scompare rapidamente. Allora, c'è bisogno di mettere la memoria esterna, semplice, scusa. Attacco un disco esterno. Esterno, vuol dire linea dei numeri, dall'uno al venti, niente complicazioni, vuol dire calendario, ma anche lì, adesso te lo faccio vedere, perché, cara mia, abbiamo dovuto costruirli questi strumenti, perché siccome io non faccio lo psicometrista, ma il clinico, guardo come funzionano i bambini e i calendari, se tu guardi i calendari come quello che hai nello smartphone, che sono anche i calendari da ufficio che metti sul tavolo, tutti i numeri in sequenza, quelli, non impareranno mai i giorni, mai. Devi prendere un calendario così, perché? perché è isomorfo, uso un termine complicato, alla rappresentazione da costruire, la linea del tempo, è una linea, non un incrocio. Con i numeri in sequenza, non verticali. Sì, ma l'abbiamo dovuto fare noi, Francesca, questo l'ho fatto fare io, sai perché? E l'anno scorso me ne aveva dato uno che però aveva i numeri di qua del mese successivo, per cui il bambino si sbagliava e leggeva un livello di complessità e ne devi dare uno solo con i giorni della settimana, del mese, basta, lineari, allora costruisco la rappresentazione. E poi, una volta che questa bambina ha acquisito la rappresentazione lineare dei numeri, della sequenza dei numeri, a quel punto la trattiene quell'informazione lì, la sposta nell'ippocampo, diventa un qualcosa che fa parte delle sue competenze, la maggior parte dei casi sì, ma non è detto e soprattutto, cara Francesca, e questo dà molto fastidio ai riabilitatori dei deficit acquisiti, non so quanto tempo ci metterà perché tutti i bambini sono diversi. Infatti, quello che noi vediamo è che se tu fai da fisioterapista e ti dice dieci giorni di esercizio dopo sei a posto, e qua non si può dire. In più, ti aggiungo una cosa importantissima, Francesca, una mamma è venuta a dirmi bellissimo il mio bambino, però non era un bambino con palazzo cerebrale, ma con disturbo di apprendimento che a otto anni e mezzo non aveva ancora imparato il tempo e per cui la mamma gli aveva detto, lui le aveva chiesto quando andiamo al mare con la nonna, che era a fine giugno, lei ha detto quando la mamma ha le ferie manca più di un mese, due giorni dopo mi ha chiesto mamma è passato un mese, allora sai alla fine della terza elementare un genitore si preoccupa e dice ma questo non è intelligente, no, il bambino è intelligente ma siccome ha un disturbo dell'apprendimento che non ti descrivono, insomma non è riuscito, allora io ho detto signora, lei prende un calendario, glielo glielo attacca in camera e poi ogni giorno col pennarello gli chiede di segnare il giorno che passa e magari scriviamo anche degli impegni, però mi raccomando signora per favore quando va a casa non cominciamo subito a dirgli vedi questo rosso è la domenica lunedì quello è rumore cognitivo lui chiude audio e video basta sono principi fondamentali della riabilitazione però mi hai detto una cosa Giacomo che confrontando ti finisco in 30 secondi lo so che sono parlo per me possiamo stare ancora un'altra ora la mamma è tornata dopo due mesi a dirmi che il ragazzino aveva imparato perché aveva scritto qui sotto e quindi questo ti dice anche in che anno è successo guarda mamma fra quattro giorni andiamo all'expo come fra quattro giorni sì martedì prossimo vieni a vedere sul calendario lui aveva scritto expo qui e dice vedi oggi è venerdì perché c'erano tutte le crocette allora sai qual è perché è una risposta alla tua domanda impareranno o non impareranno e dico signora sono contento cosa è venuto a fare allora mi ha detto a sapere come devo fare per andare avanti e io cara Francesca le ho risposto non lo so l'importante è non andare indietro cioè cioè dico togliere il calendario e lei mi ha detto sì ci ho già provato e lui non è capace di cioè scusa ma questa è una risposta per uno che non fa lo psicometrista ma il clinico importante perché cosa vuol dire vuol dire che l'esperienza che ha fatto non è stata ancora sufficiente per costruirgli la rappresentazione mentale se tu gli togli il lo strumento è di nuovo col sedere per terra se tu glielo lasci gli hai dato autonomia eh ma non è autonomia deve farlo senza ma chi l'ha detto come la tavola pitagorica linea dei numeri il calendario chi l'ha detto io voglio costruire autonomia e quando ti dico ho bisogno di esperienze stabili stabili vuol dire che io anche alla mia nipotina che fa la prima elementare e ieri mattina ero là da lei ho detto scusa Martina hai segnato il giorno di oggi ah no no non mi sono dimenticata ed è andata e ha detto ieri era il 10 10 dico e che giorno è Martina giovedì bene allora è chiaro che un bambino che non ha problemi di apprendimento ci mette poco tempo i bambini che hanno problemi di apprendimento e che hanno anche dei dei quadri funzionali problematici hanno bisogno di più tempo ma a me non mi interessa quanto io tiro il collo al genitore che gli tira via il calendario e io tiro il collo al genitore che gli tira e l'altro giorno parlavamo con gli insegnanti che vogliono provare a insegnarle il denaro l'orologio noi abbiamo costruito tutti i strumenti con i bambini li abbiamo tutti Francesca e però non li ho qui quindi non riesco fatte di vedere e e quindi però aspetta aspetta Giacomo ti interrompo perché tu ci hai dato una serie di nozioni importantissime che io rimetto all'interno del nostro schema mentale di famiglie di bambini con paralisi cerebrale ci hai detto un'informazione alla quale noi siamo abituati ultimamente che è quella dei programmi di riabilitazione intensiva e abbiamo visto negli anni grazie anche a tuoi colleghi professionisti nella tua regione ma anche in altre regioni in Italia che i programmi di riabilitazione motoria somministrati in maniera intensiva quindi ad esempio 60 ore continuative secondo una metodica standardizzata portano a dei risultati che poi rimangono e permangono nel tempo mentre dal punto di vista cognitivo piuttosto che linguistico non so si chiama linguistico legato al linguaggio alla produzione del linguaggio i genitori non trovano mai queste possibilità di avere dei periodi di allenamento intensivo e quindi rispetto allo strumento del calendario altri strumenti sono un po' sprovvisti a casa di questo tipo di informazioni o non trovano centri sul territorio disposti a fare questo questo è sicuro ma non è che sono disposti non lo sanno fare purtroppo non lo sanno fare però la domanda per me è questa ha senso anche quindi tu ci hai spiegato che l'apprendimento ha senso quando io comincio a togliere le regole della spiegazione e che si standardizzo in maniera continuativa il messaggio ha senso stabile stabilità stabile quindi ha senso dal punto di vista dell'apprendimento lavorare in questo modo e avrebbe senso fare dei programmi allora ti aggiungo questo a quello che tu stai dicendo un'idea sbagliata che spesso pervade anche i genitori ma soprattutto che viene influenzata e sollecitata dai riabilitatori e dagli insegnanti è che bisogna avere tutto nella mente e da qui gli strumenti compensativi io mi posso appuntare le cose mi posso registrare le cose è sbagliato pensare che qualcosa sia acquisito guarda io mi ricordo ancora un ragazzino fantastico una delva di quelli che entra nello studio mi ricordo alla Siena e comincia a dire stronzo cioè aveva una rabbia di aggressività e non aggiungiamo altri termini e così e quindi lui ti dico a nove anni è un ragazzino con ritardo mentale di grado lieve alla fine perché poi devi fare la valutazione poi ti ho detto solo alcune cose la parte clinica vuol dire guardarlo mentre prova a risolvere il problema perché è quello che ti dice cosa devi fare per aiutarlo a migliorare no guardare il punteggio il punteggio è il punto di partenza ma io voglio vedere come ha raggiunto quel punteggio delle volte per ottenere questo qui per esempio è una prova a tempo questa non stai vedendo niente ma insomma bisogna bisogna riprodurre dei disegni che tu vedi su un librettino con i cubetti ma io voglio vedere come fa e se non lo fa a tempo segno il punteggio certo ma io gli do tempo aggiuntivo perché voglio vedere se lui risolve e se io gli do un'indicazione cosa succede poi ne tengo conto per il programma di rieducazione quindi è operatore dipendente questo me lo confermi che ci somministra il test se sta lì e si perde solo dietro al cronometro ma non è operatore indipendente perché certo il punteggio alla fine nudo e crudo ti dice che lui ha un problema di coniezione viso spaziale per esempio ma a me non basta voglio vedere come potrei fare per risolvere per aiutarlo ad affrontare questo problema perché il mio problema è sempre stato questo autonomia cognitiva lui deve fare a meno del riabilitatore deve fare a meno dell'insegnante di sostegno deve fare a meno del genitore e se questo non succede vuol dire che tu hai sbagliato l'impostazione e hai creato dipendenza cioè sei una stampella invece che uno strumento di progresso come si fa su bambini che vivono una medicalizzazione fin dalla nascita quindi vivono magari arrivano anche a un'età di 7-8 anni all'interno di una bolla di comfort familiare si fa si fa si fa si cominciano a togliere mano a mano progressivamente i vari pezzi di sostegno si devi dargli degli strumenti esterni Francesca il punto chiave è quello ma strumenti che il bambino sia in grado di usare da solo in autonomia quindi creare questi strumenti è la cosa più difficile da fare creare perché non sono standard questi strumenti vanno creati personalizzati esatto esatto quindi questo è un lavoro bellissimo perché certo poi devi tagliare le mani alla mamma devi metaforicamente ma insomma bisogna e chi è la persona deputata Giacomo a fare questo mestiere no perché c'è un'equip che lavora intorno a questi bambini la rompichiatra il psicologo l'insegnante sarebbe un educatore ma bisogna formarlo purtroppo perché vedi diciamo che il modello di riabilitazione è troppo tagliato sulla riabilitazione dell'adulto la riabilitazione dell'adulto ha una caratteristica un classico anche nella parte motoria anche anche io certo ma anche io sono stato rieducato perché ho avuto una paresi della mano sinistra dovuto a uno schiacciamento della della cervicale insomma e avevo una paresi della mano sinistra è chiaro che quando è stato risolto il problema della togliere lo schiacciamento c'è stata la riabilitazione la riabilitazione scusa del danno acquisito può contare sul fatto che tu soggetto della riabilitazione conosci il punto di arrivo conosci il punto di arrivo il bambino non conosce il punto di arrivo perché non lo ha sperimentato quindi qual è il modello della riabilitazione nei disturbi del neurosviluppo nei disturbi anche acquisiti in età perinattare il modello della riabilitazione è il modello dell'apprendimento non cioè come diceva Milani Comparetti dell'abilitazione in condizioni diverse diverse quindi con l'uso di tanti strumenti è chiaro che quello che conta è sempre chi guida il motore però il clinico deve essere in grado di giudicare che cosa puoi fare tu perché con questa ragazzina qui a Napoli quello che stanno sbagliando gli insegnanti non l'hanno capito perché dicono no no ma noi facciamo così è che le stanno insegnando a usare i soldi no? tu non puoi con una ragazzina così che ha 64 di cui perché poi si utilizzano queste cose ma io voglio sapere come funziona ma l'ho vista quindi so come funziona non puoi cominciare a dire un euro è uguale 100 centesimi questo è rumore cognitivo punto la stai allontanando dal compito io invece dico questa si chiama Maria Teresa dico Maria Teresa scusa questo cos'è un euro questo 50 questo 20 questo 20 tiro via le monete con i centesimi che non servono fanno solo confusione le insegno a usare 2 euro 1 euro 50 20 10 e già l'insegnante comincia a dire ma però no però un corno io voglio autonomia e ci vuole gradualità per acquisire l'autonomia quindi io le dico Maria Teresa ieri sei andata a comprarti che ne so cioccoli dentro una roba del genere non lo so sì e quanto costa? costa 80 80 cosa 80? 3 euro guarda Francesca che io avevo negli ultimi anni di insegnamento io avevo un ragazzo down in aula un corso per educatori professionali la definizione giusta è ragazzo con sindrome di down sì un ragazzo con sindrome o omesso sindrome va bene accompagnato dalla mamma perché la mamma cercava di tenerlo agganciato era lì come uditore io in quel corso lì faccio lezioni anche su ritardo mentale quindi quando ho visto il ragazzo con sindrome di down in aula primo giorno mi sono subito detto cosa faccio? faccio finta di niente? no lo nomino capo per a sé cioè aiuta il docente aiuta il docente e gli dicevo Jacopo allora durante l'intervallo c'era andare a bere il caffè il cappuccino no? e dico scusa Jacopo tu durante l'intervallo della lezione prendi anche tu sì e quanto costa il cappuccino? me lo offrono l'uso cioè erano quasi tutte femmine hai capito? dico brana cominciamo bene questo corso per educatori è vietato d'ora in avanti è vietato chiaro? quindi dico allora Jacopo perché capisci quello vuol dire fare la stampella quello vuol dire Jacopo si era trovato le sue strategie di autonomia anche ma scherzi certo lui tutte le mattine baciava tutte le no tutte erano troppe ma ne baciava un bel po' di studentessa però mi va a contare sì ma allora però scusa finisco il discorso sul denaro allora dico ma è quindi quanto costa scusa e lui dice allora poi va a vedere il giorno dopo me lo dice costa 45 euro dico no Jacopo no fuori scala lascia perdere sono 45 centene ma non importa le conosci le monete per mettere dentro giusto sì no la mamma che lo assisteva sempre diceva lo sapeva e se l'è dimenticato vedi perché hanno smesso di farlo lavorare in modo autonomo e allora abbiamo ricominciato però io su questo ti voglio chiedere cioè tutte queste interferenze nel meccanismo di apprendimento che nel caso di Jacopo magari può essere la mamma troppo pressante come potrei essere io un'altra mamma oppure dimenticarsi certo oppure dimenticarsi perché stiamo parlando di contesti di vita abbastanza complicati non la mamma che trascorre 20 ore al giorno a seguire un unico bambino come nel film di Water 20 anni o ragazzo però questo tipo di interferenze le interferenze dei farmaci ad esempio le interferenze che intervengono quando il ragazzo comincia a sentire la frustrazione del confrontarsi con i suoi pari o nel contesto classe penso ad esempio il programma della classe deve andare avanti per cui se tu in terza elementare hai imparato a leggere e a scrivere noi andiamo avanti quindi quanto interviene tutto questo contesto nell'apprendimento invece da laboratorio come ci hai spiegato tu che dovrebbe essere non è da laboratorio come come no perché questo non è da laboratorio è adattamento nella vita quotidiana autonomia eccetera quindi quanto interviene beh di solito i ragazzini con patologie hanno insegnante di sostegno solo che l'insegnante di sostegno mima quello che fa l'insegnante di classe invece che fare cose completamente diverse che possono diventare utili per tutta la classe quindi la chiave qua di nuovo è la personalizzazione è l'inclusione nel contesto classe è sapere cosa bisogna fare Francesca il problema è questo sapere cosa sapere fare una lettura chiara della dimensione clinica funzionale del ragazzino e adattare l'intervento alla dimensione clinico funzionale perché siccome tutti devono imparare i centocentesimi non la imparerà mai la Maria Teresa chiaro? o perlomeno non così adesso io voglio che lei impari andare a comprarsi da sola per 80 centesimi e questo ci metti una settimana Francesca semplice con le monete basta e poi da lì andiamo avanti e avanti e avanti e avanti ma già questo mi sembra un grande messaggio di speranza oggi è cedeato su cose dove invece alcune famiglie alcuni genitori spesso si trovano dei muri quindi no è così è questo punteggio da qui non si scappa su allora tu mi hai mostrato prima il mulino io ho scritto un altro libro per il mulino che ha avuto meno diffusione che è intitolato nessuno e sommato cioè tutti hanno qualcosa da dare e tutti hanno qualcosa da apprendere presi i ragazzi con ritardo mentale o con deficit o con pluri handicap tutti hanno qualcosa da dare però questo qualcosa tu riesci a farglielo dare se capisci dov'è il punto in cui puoi agganciare la sua autonomia per questo dico ci vuole un villaggio per capire saper girare con la carrozzina elettrica ma è autonomia è sempre il sistema qui che deve guidare la carrozzina elettrica non va dove vuole lei va dove decido io all'inizio sbatto poi insegno poi magari modifico un po' i comandi in modo che eccetera eccetera senti ma tu negli ultimi anni tu ne hai vista tanta di storia quindi negli ultimi anni anche rispetto all'apprendimento che si fa invece in classe quindi parliamo principalmente della scuola primaria è visto cambiare qualcosa un'evoluzione anche perché se dal punto di vista della didattica non mi sembra che sia cambiato molto ancora ti insegnano le tabelline ti insegnano cose che per bambini con problemi di questo tipo magari possono essere complicato imparare la poesia a memoria quindi cosa c'è stato nello scollamento fra la didattica che continua a insegnare così e invece gli strumenti compensativi che magari ci aiutano magari oggi possono imparare le tabelline e usare la calcolatrice fin dall'inizio non posso scrivere in corsivo ma gli strumenti compensativi non sono ben digeriti dagli insegnanti che credono che quello non sia vero apprendimento ecco è così dici tu Giacomo è così che se io non imparo se non imparo i numeri così non imparo le tabelline poi questo è un tipo di nozione che non mi permette di apprendere a fare i conti bene o apprendere il resto bene non ho capito cosa mi stai chiedendo adesso ti sto chiedendo se ancora oggi è fondamentale il meccanismo di apprendimento ad esempio nel calcolo partendo dal memorizzare le tabelline oppure se posso pensare che oggi magari che ho un telefonino dietro non oggi Francesca non oggi è sempre stato così quando io andavo a scuola c'era la tavola pitagorica dietro il quaderno e c'erano tutte le formulette con le figure geometriche eccetera quindi oggi invece si crede che l'intelligenza sia la memoria la memoria a lungo termine e che si 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 fa coincidere la memoria a lungo termine con l'intelligenza ma non è così l'intelligenza è la capacità di utilizzare le tue risorse e quindi se le risorse tu di memoria non le hai tu devi avere una memoria esterna io faccio scrivere i ragazzini anche con palazzi cerebrali con l'iPad non col computer non l'iPad perché è ancora più semplice perché tu hai sullo stesso superficie e sullo stesso piano dimensionale le lettere ma anche i suggerimenti come lo smartphone ma questo cara mia se non sei in grado di capire questo che favorisce l'accessibilità tu però gli devi insegnare dopo che hai scritto due lettere a controllare sulla barra se la parola che c'è se il che cercavi c'è o non c'è se non c'è devi andare avanti e poi devi ascoltare con l'audio cosa hai scritto è così è giusto cioè oggi abbiamo degli strumenti eccezionali solo che dentro la scuola non vengono usati tranne nemmeno dopo essersi essersi stati costretti con la DAD ma non c'entra non hanno imparato niente i docenti la scuola anzi anzi ti dico subito che noi faremo un convegno noi intendo essere sia rete di servizio lo facciamo a Taranto quest'anno il 22 23 aprile segnaliamolo cioè c'è fai anche queste informazioni ed è intitolato scuola effettuosa o scuola presuntuosa perché cara mia la scuola sta sta correndo proprio per i fatti suoi introducendo inglese francese anzi le scuole più prestigiose mettono anche il cinese mannaggia a Milano quante volte incontro ragazzini con disturbi all'apprendimento me li portano le famiglie lì a Milano e hanno una scuola bilingue ma se hai disturbi del linguaggio cioè è come prendere uno con la paraparesispastica e dici impara a pattinare sul ghiaccio ma scusa spiegami questa cosa perché questa era un'altra delle domande che ci facevano i genitori i problemi dopo lasciamo dopo lasciamo l'ultima domanda ho un'altra call no ma va bene quest'ultima domanda solo sull'inglese quindi bambini con dislessia accertata e questa difficoltà proprio in ingresso in uscita in produzione in tutto nell'apprendimento di una lingua che non è trasparente in cui il carattere non corrisponde al facciamo confusione ecco dimmi tu stai parlando di apprendimento dell'ortografia e non della lingua allora dimmi perché questi bambini hanno problemi nell'apprendimento di una lingua straniera molto più che nel leggere o comprendere un testo nella loro lingua e dai e ricadi sull'ortografia cioè allora il linguaggio deve distinguere il linguaggio verbale dal linguaggio scritto ok tutte le lingue inglese cinese francese o italiano sono nell'orale ugualmente facili perché vengono apprese senza insegnamento ma con la comunicazione dai genitori nel contesto di vita è un principio fondamentale invece le ortografie non sono tutte uguali le ortografie ci sono quelle regolari come l'italiano o quelle irregolari come l'inglese e allora è molto più difficile imparare un'ortografia irregolare ovviamente lo sappiamo anche noi che non abbiamo disturbi dell'apprendimento quindi quindi allora se io devo cioè l'inglese in Italia si insegna malissimo alla primaria soprattutto ma sì perché ti insegnano lessico e grammatica ma tu l'italiano lo hai imparato con lessico e la grammatica lo hai imparato comunicando mi dispiace bisogna fare così altrimenti non si fa punto e quindi cosa bisognerebbe fare primo avere sempre i madrelingua in classe quindi l'esposizione ad ascoltare una lingua diversa sì sì assolutamente ieri mattina discutevamo con la mia nipotina con una delle due mie nipotine prima di andare a scuola perché la nonna gli aveva preparato un apple pie allora dice ma cosa vuol dire pie dico vuol dire torta apple apple pie torta di mele no ma torta si dice cake no no cake no cheesecake allora uno dice sì in effetti torta si può dire in due modi questo anni sai chiediglielo all'insegnante d'inglese sai cosa mi ha risposto la bambina no perché oggi non c'è la madrelingua e ne sa meno di me perfetto wow molto bene molto bene va bene va bene Giacomo io ti ringrazio per il tempo che ci hai dedicato perché è stato un percorso piacevolissimo ovviamente ci sarebbero state mille altre domande va bene però perlomeno è un avvio di approfondimento allora se i genitori dovessero avere bisogno di te piuttosto che avere problemi in questo caso si possono rivolgere all'associazione dici tu l'associazione italiana dislessia segue i dislessici noi abbiamo una rete di centri che si purtroppo privati perché le convenzioni non si riesce a farla conosciamo il tema conosciamo ecco conoscete bene il tema e ci abbiamo provato in mille modi ma io io non so fare il politico so fare solo il clinico il riabilitatore allora SOS dislessia però si chiama così perché è nato così non si sa ma è una rete di centri in tutta Italia noi seguiamo tutti i bambini che hanno qualunque tipo di difficoltà ok qualunque tipo di difficoltà quindi come ti ho detto prima Roma la bambina con l'emianopsia o il bambino che entra in studio in casa Cina noi lo vediamo con la stessa attenzione con cui vediamo i bambini con disturbo di apprendimento e questo mi fa grande piacere perché appunto diamo sicuramente un punto di contatto anzi devo dirti la verità io sono qua ormai se ne occupano in tanti disturbo di apprendimento non sempre sono più interessato a lavorare con i bambini che hanno i problemi di stroke o di ritardo cognitivo allora quale messaggio migliore Giacomo per lasciarci dire portiamo avanti anche un progetto di ricerca qualcosa insieme noi lavoriamo proprio in questa direzione per capire meglio per capire meglio il funzionamento molto 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 volentieri noi siamo a Milano siamo a Roma siamo a Bologna siamo anche nel sud un pochino insomma prendiamolo prendiamolo come punto di inizio e non di fine della conversazione va bene ti mando il programma del nostro convegno perché se ci sono persone famiglie che hanno voglia soprattutto lo facciamo quest'anno al sud perché hanno richiesto tanto lo facciamo in presenza a Taranto il 22 22 23 mi hai detto di aprile esatto e ti mando il programma visto la mia capacità in memoria è stato questo è stato segnarsi brava brava sì allora grazie a te per la simpatica conversazione e a presto vabbè un po' non ti preoccupare secondo me queste conversazioni cercano di stillare poi la curiosità per approfondire quindi è quello l'obiettivo grazie ancora e buona giornata a presto ciao anche a te ciao ciao e buon lavoro